continuiamo a parlare di trattamenti con i viticoltori mi rendo conto spesso del fatto che loro non sono in grado quasi sempre almeno molto spesso non sono in grado di calcolare il volume d'acqua per il trattamento quindi sanno che nel loro trattamento useranno magari due botti mi dicono si uso due botti per fare il mio vigneto il mio ettaro due botti da 400 litri va bene però stanno chiusando due botti perché nel tempo hanno visto che andando con quella certa marcia con quella certa pressione con quegli ugelli vengono fuori appunto due botti se però io gli dico di andare a 4 chilometri orari invece che a 5 non sanno immediatamente ricalcolare il volume d'acqua lo scoprono solo alla fine e quindi scoprirlo alla fine vuol dire che tu hai messo la medicina e una quantità d'acqua che ti sembrava che andava bene poi alla fine scopri magari con filare non si è riuscito a trattarlo oppure ti sono avanzate un po di litri che devi ridistribuire nel vigneto quindi l'antiparassitare non l'hai dato in modo uniforme su tutte le piante di questo limite nasce dal fatto che non si conosce la formula non siano gli strumenti insomma per calcolare bene il volume il volume è legato alla velocità di avanzamento della macchina è legato alla pressione è legato ovviamente al tipo di ugelli quindi alla portata con quella certa pressione e ovviamente alla distanza tra i filari e ci sono delle applicazioni che consentono di fare anche il calcolo del volume di questo però ne parleremo meglio in un altro video oggi voglio parlare di come si calcola la velocità che è il primo elemento fondamentale molti in realtà non sanno calcolarla molti neanche la conoscono non se ne preoccupano nemmeno spesso si lavora con trattori magari vecchi che non hanno il tachimetro quindi non sa che velocità stanno andando e in ogni caso il tachimetro vi indica la velocità istantanea non quella media che di percorrenza quindi si avete un'idea ma non esattamente quella il valore esatto della velocità media ci sono anche in questo caso delle applicazioni per calcolare la velocità partiamo però prima dal calcolo matematico che quello sicuramente non sbaglia perché per calcolare la velocità vi serve sapere la lunghezza del filare se avete 125 piante in un filare allora voi con le piante messe a un metro beh allora il conto è facile avete 124 metri di sviluppo vi serve un cronometro nel momento in cui il trattore sta partendo e si sta aprendo l'errorazione della soluzione con l'antiparassitario si fa partire il cronometro per richiuderlo ovviamente il momento in cui viene richiusa l'errorazione della soluzione e si è arrivati quindi sull'ultima pianta a quel punto il calcolo della velocità è facile perché dovete fare la distanza quindi i metri 124 metri ipotizzate che se avete infilato da 124 metri diviso i secondi che avete calcolato per percorrere quel filare ottenete la velocità in metri al secondo la moltiplicate per 3,6 e ottenete immediatamente la velocità in chilometri orari ripetete questo lavoro per diversi diverse volte 3 4 volte e vi rendete conto che riuscite a calcolare in questo modo diciamo mediamente nella nel fare i filari col trattore con una quella certa marcia con quelle impostazioni che ho dato sulla botte quindi con quegli ugelli con quella pressione bene la mia velocità mi rendo conto che è 5 piuttosto che 5,5 piuttosto che se possono sembrare sottigliezze ma andare a 5 km orari piuttosto che a 5,5 fa molta differenza perché alla fine dell'ettaro avete la quantità di acqua che avete erorato e molto è molto diverso stiamo parlando di diversi decine di litri di differenza per cui è sempre importante sapere la velocità nelle diverse alle diverse marce in modo tale che se avete necessità di fare un trattamento antioidico antipronosporico in una fase magari anche abbastanza iniziale della stagione può essere che potete andare anche a 6,5 km orari se siete in una fase in cui la vegetazione è molto più fitta o dovete fare un trattamento molto più mirato sul grappolo perché dovete controllare la cocciniglia piuttosto che un attacco di oidio sul grappolo o la tignola quindi dovete bagnare molto bene gli acini dovete andare quindi molto più piano e dovete andare a 4 km orari dovete sapere quale marcia e quale regime di rotazione vi porta a quella velocità quindi è fondamentale saper calcolare sempre la velocità adesso nel video vediamo appunto come si fa ecco faremo il calcolo della velocità con questo mezzo è un trattore abbastanza vecchio ma in realtà più che adeguato per le necessità dell'agricoltore che deve condurre 3 ettari di vigneto naturalmente un vecchio modello quindi non ha il tachimetro per cui lui usa diverse marce ma non sa esattamente la velocità media lo riempiamo d'acqua per fare la prova e adesso andiamo in vigna a calcolare la velocità ora abbiamo contato le piante manco a farlo apposta erano 126 quindi 125 metri sono messe a un metro chiaramente 126 piante gli spazi sono 125 quindi uno in meno è facile sono un metro se le piante fossero state un metro e due avreste moltiplicato 125 per 1,2 e così via quindi qua abbiamo a che fare con un filare da 125 metri abbiamo misurato un minuto e 20 quindi sono 80 secondi quindi per calcolare la velocità se facciamo 125 metri diviso 80 vediamo quanto da quindi il calcolo perché con la velocità e allora 125 metri diviso gli 80 secondi questa è la velocità in metri al secondo per 3,6 5,6 quindi è la velocità in chilometri orari del percorso di andata adesso ricalcoliamo anche e facciamo lo stesso lavoro anche per il ritorno e vediamo il tempo impiegato il tempo impiegato nella discesa nel ritorno sullo stesso filare è stato di 84 secondi quindi 125 diviso 84 secondi per 3,6 questa volta abbiamo fatto 5,3 chilometri orari quindi perciò vi dicevo è meglio farlo magari due o tre volte ripetono perché magari c'è anche un po dipendenza la velocità può non essere perfettamente uguale si rifà quindi per due volte almeno il stesso calcolo poi vi potete fare la media quindi ho fatto 5,6 poi ho fatto un 5,3 quindi la mia media è di 5,45 ecco questa è la velocità media del calcolo diciamo che io vado questo trattore in terza marcia e mediamente va a 5,5 chilometri orari hai fatto una velocità media sono andati in ritorno di 5,5 chilometri orari e proviamo adesso quindi con una marcia più corta per vedere a che velocità vai se invece che in testa va in seconda supponiamo proviamo a rallentare a 55 la velocità giusta per fare un trattamento proviamo con una marcia in meno e vediamo a che velocità vai adesso ci ha messo 1 minuto e 38 quindi sono 98 secondi quindi ricalcoliamo la velocità quindi in seconda marcia il trattore ha impiegato 1 minuto e 38 quindi ha impiegato 98 secondi diviso 98 questa è la velocità in metri al secondo per 3,6 quindi lui in seconda marcia è passato da quei 5,5 di prima a 4,6 chilometri orari dalla terza alla seconda si è passato da 5,5 a 4,6 hai perso quasi un chilometro orario quindi diciamo che normalmente i 55 vanno bene per fare i trattamenti quindi quella terza marcia va bene se però abbiamo necessità qualche volta di fare il trattamento mirato sulla sul grappolo per andare più piano perché c'è qualche attacco eccetera tu sai già che vai in seconda e seconda mai a quattro e mezzo o 4,6 in realtà abbiamo misurato 4,6 ma diciamo 4,5 e quindi possiamo calcolarci di conseguenza anche il volume d'acqua diverso che esce allora per il calcolo della velocità si può anche fare in altri modi ovviamente ci sono anche delle applicazioni scaricabili gratuitamente sul telefono e che vi danno la velocità media velocità istantanea e velocità media ma ovviamente questo tipo di sistema la sua precisione è legata alla precisione del gps del vostro telefono quindi se non avete un telefono ultimissima generazione con gps particolarmente precisi in genere gps dei telefoni hanno una tolleranza uno scarto di diversi metri rischiate di ottenere un valore in realtà non perfettamente attendibile come quello invece che è molto facile da fare avete visto del calcolo matematico